Signore e signori oggi ho il microfono più bello di tutti, guardate un po' un bellissimo velo della sposa e con questo bellissimo microfono vorrei chiedere a questi sposi come organizzare il matrimonio con le wedding planner Cosa faccio? Noi vado io? Vai tu? Vai tu! Ma guarda, allora, noi ci siamo conosciuti, quando è stato? Un anno e mezzo fa? Più o meno, più o meno sì, devo dire che per noi l'organizzazione è volata, nel senso che abbiamo fatto tutto nei tempi, anzi forse eravamo noi che mettevamo anzi a loro, però loro ci hanno sempre tranquillizzato quindi siamo arrivati all'obiettivo proprio in totale relax Hanno cercato di accontentare ogni nostro desiderio, andare sfidando anche il meteo Sì, Robi, sì! Il meteo l'abbiamo messo a dura prova Oggi sì Eravamo lì, piano A, piano A Hai vinto l'impossibile Credo che abbiamo pianto forse quanto avete pianto, quanto ha pianto la sposa Anche lo sposo, oggi, 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 oggi La sposa ha fatto un pianto in settimana Sì, esatto, tu hai dato oggi Allora ragazzi, consigliereste? Assolutamente sì, anzi vi ringraziamo di cuore, poi lo facciamo anche dopo in pubblico No, no, in pubblico, no, non si fa in pubblico No, dai che poi la Titti si vergogna Allora, un bacio ai nostri, al nostro popolo di Instagram Grazie ragazzi, grazie